Ed eccoci qua, siamo tornati Ovviamente non in live perché non ne vale la pena totalmente E non mi ricordo più che stavo facendo Scusate, che dopo il registro dei live Che non sta caricando, quindi figurati, è già difficile di sfruttare Qualcosa manca, ma non erano i pugni, non erano i salti Non è la presa Le mostre le ho fatte Le trasformazioni Per quanto pare subito l'ho accusata, ok Vediamo subito le sforsioni per 6 anni Nulla di che Piuttosto patetica la scena Forse anche da blu non sa nulla di che Dunque in ogni caso ho detto che ho trovato il migliore avversario sfidabile In assoluto che R-Comp Quello proprio Sono fiero di lui proprio, davanzia Ma no, non abbiamo neanche la mozza finale, è sposabile Caduta a stellare No, oddio, come questo è il suo senso Guarda se ho scemo io proprio Allora, ma la sua mozza finale l'abbiamo fatta Ecco qua, mamma mia, ma che mossa Questa è un blu Una massima un po' diversa, ok C'è anche il migliore, il migliore Bene, bene Bella, almeno questa proprio Siamo ancora qua, tanto Infatti vado a ricordare la mossa finale con me Mi venga reggiato così sei ok, scusate Sono anche un po' scettico che sia stato R-Comp Che si è rotto prima, quindi Per pure se io gli spammerò un altro Di prank energetico in faccia E' per questo poi spogliato E ora sparisce Ma in più che ho solo un energetico polio Il problema è che sono in danni A quattro anni sono una gheutta Ma Tipi dove aspettare la gugida normale No, adesso Sì, la metto Ma vale la pena fare qualcosa con corso per stiamo In grezzo Il salto è così ormai Wow, che figata La presa è sempre la stessa, ok Ma poi che inizia a fare i pugni Ok, finalmente è successo Ma poi si va per strada a montagna Do un po' sprocco, non mi chiede perché Se è meritato, va bene Niente, dato che è morto Per fare solo gesto finale Perché togliamocelo dalle scatole Che non è nulla di che Ci fosse un blu invece Ma c'è lo che so, scusate qua Ma poi è la gas Barriera stellare, è solo questa Oh no Non mi devo toccarlo No Sto facendo beccare Sennò muore Ecco che ha perso un po' di rosa La presa è uguale Guardate come resiste Esatto, invece è sto patetico fatto così Quanto sfere più lunga stiamo trovando Vabbè Torniamo a fare Super Saiyan Poi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare Ci vanteggia di ortice nascente e caduta stellare che abbiamo già fatto Quindi cosa dobbiamo fare di lui ormai è davvero buono Il salto l'abbiamo fatto La presa l'abbiamo fatta Dobbiamo fare i pugni Standard ovviamente Ma non ti senti una nuova Non ho capito Muoto di stanza Come vedete Come vedete è il salto veloce Non ci manca Da qui in poi mi sa essere veramente forte Ecco faccio Forse nascente è una nuova presa che fa Ok Ok E l'azione e mossa di quella presa La mossa finale l'abbiamo già vista E un'altra cosa Probabilmente abbiamo un'altra da fare E un po' E un po' E un po' Ed ecco qua Torniamo su questo A blu Non so Allora che fosse del trasporto e barriera stellare, infanto è noioso. Ecco qua, il teletrasporto per quanto riguarda. Facciamo già le mosse. Il tuo valore stellare dà così, guarda che si è diventato subito. Vuoi vedere che è una mossa canonica, non c'è mossa. Va da flughera ormai. E' bravo quanto rompe. Da un momento, guarda che ho. Basta. Guarda l'arrivo azione. Ok. Questa mossa va a versi tutta una delle migliori, invece qui è solo una mossa. normale. Ma se possiamo abbiamo finito, quindi concludiamo anche con quello blu di Firenze, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Dunque. da blu invece abbiamo dei trasporto, barriera stellare, che appunto abbiamo tolto. Si è giusto. 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 sempre così. Non c'è modo. La mossa è quella ormai. Basta. E' esplosione il meteoro. La mossa finale è un da superare. Non è già superare. Vediamo un po' se diamine mai sia. See ya. Via 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 via. E' esplosione il meteoro. Allora, si mette di rompere i coglioni e... Mamma mia, tra l'altro è il più fiato ragazzi, ti impaffa un bel tempo, no, è troppo forte per me questo, è troppo forte, non voglio che sia tanto forte che ci dà quarto livello, non l'ho provato, guardate cosa ci fa, mamma mia che animazione, è fantastica, fantastica bravo, guardate qua, non sto a squadrare in segretario, vabbè ma intende sempre, no, supremo, non c'è stato uno supremo, mamma mia che si è attivato, ha spazzato via, ok ragazzi, wow, fantastico proprio, a posto proprio, l'animazione di questo passaggio è fantastica, fantastico, mi chiedo cos'è quello del quarto livello adesso, vediamo un po' l'ultimo progetto, è il supremo, il divino, finora in assoluto, guarda, lo che ha sempre esagiato di forza, infatti mi chiedo una battaglia, uno contro uno contro il recombio, come se lo faccio in segno effettivamente, infatti, eh sì, sì, ok, poi vediamo cosa sta a fare tutto, ovviamente ha sempre il gilet arancione, aspetto a quello, ed ecco qua quello che è, senza selvaggio, potenziale, vento al limite massimo, big bang energetico, impatto supremo e ultra big bang energetico, non si chiama più 100, non si chiama più forza 100, non mi chiede perché, apri 2016, che ci metto in segno in segno, o reportario è stato fatto, potenti come si acc moon sportica, fortsutto ci vorrei piacere, Ecco Vax in bersaglia E chi sei sfogato? Non capisco Oh no, mamma mia La seconda volta fanno se c'è E basta, mamma mia, non ti rompono E' stato sempre questo, ok? La presa è nuovissima, ragazzi E' stato proprio strano Proprio Ogni volta sono dato i pugni In quel atto che oggi, ragazzi Ovviamente è stato troppo veloce Che nemmeno vedo Per aver fatto tutto, ok? Mi pensi perché non si è comproccionato Si è rotto Non si è rotto, non si è rotto Non so intendo Chiuse se tu Il Wank è energetico Spazzato così Spazzato al limite massimo Non aspetto, però vuoi fare l'altra massima Ecco qua No, che Dio è diventata patetica, mi s'imprace Ecco fatto Ecco fatto Il controllo che è proprio ULTRA Appunto Big Bang è energetico Non cresco per te Non dice più Forza 100 Non lo capisco Non lo capisco E devo dire perché Guarda Stai rimettando di sé Non c'è La battaglia di Proviso Sempre con la Teddy Che durano pochissime Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Nient'altro ragazzi, ragazzi, grazie a tutti i raggiunti ma si può fare se può essere avversato a me mi sembra di essere saputo per chi le fa un mio dio non ci sta neanche credendo perchè sta facendo un'altra battaglia, perchè non lo sa nemmeno io lo sa nemmeno se ero sicuro di aver fatto tutto ma credo di sì credo di aver fatto tutto hai spazzato via con un malissimo big bang energetico non lo sa nemmeno non lo sa nemmeno non lo sa nemmeno basta è patetico adesso è sempre uno dei più forti non c'è male è veramente supremo ecco cosa di devastante vabbè bisogna imparare anche le fusioni perchè è un pochettino importante e divertente diciamo anche quindi volevo capire come si facevano esattamente in sé ma potremmo cambiare musica però non si può tornare indietro oggi c'è il cerchio di tornamento principale che padre cosa non è bella mi spiace è davvero bella dai non sei sicuro se abbiamo fatto i pugni vediamolo un attimo vabbè vabbè ora ora cosa dobbiamo fare eh dobbiamo mettere ehm credo non sia troppo importante fare una cosa come quali trasformare perchè altrimenti ci vorrebbe troppo di più non lo so credo più o q fine di z no no q fine di z quindi 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 quello che diventa questo no 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 non super questo e tutti e due dovrebbero portare a appunto ehm ehm ovviamente ovviamente per fare quelli super abbiamo bisogno di un gogo super e e un vegeta super e come come potete potete vedere si può fare per quattro per quattro per quattro vediamo 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 io 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 se si 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 calcola un cuore come io credo sia un bug grazie è bello non siamo arrivati a fare questa funzione il pannello non appare neanche ma grazie ma grazie grazie e ci mi piace su ci si che Ok, vai con Vergeaku. E' ovviamente, è più forte, ha più guidabili. Guarda sempre i quattro video, tutti i cinque. E poi potrà suonare Super Saiyan, una solita cosa. Non so se sia differente quello Super Saiyan che dovremmo provare. Vediamo, qua ci vorrà un po' di più. Ok, non si è sfogato più. Andare a Super Saiyan, Brutal, Brutal, Brutal. E se cambiare il versaggio, è già abbastanza difficile. C'è un po', guarda. Aspettiamo anche a vedere cos'è quel Broly buggato che vi dice. Non lo so. Dai, su questa hand vai. Pensate che qua più forte non ti dà più nemmeno un katastro. Cosa? Non devo dare una serie più diversa. Io ho qui cos'è quel Broly là sopra, ragazzi. Non riesco a capire cosa e che cosa vuoi. C'è Broly là sopra. Ti dici il 2. Io non riesco a capire. Io non lo capisco. Non è possibile. Ma no, non è Broly. Gogo potessi reale adesso. Mi nemmo metti con me. Perché non posso più? Perché non posso cambiare personaggi? Le cose. No, io non ce la non capibile. Che non sto passando. Io non ce la non capire. Non è possibile. Ma dov'è? mostra pannello gesti l3 gesti ma che mi serve cosa serve ancora che non so mostra pannello scambio l3 più l3 scambio passaggio del senato ok ecco la fanta roca un po di figli eh mamma mia per favore fate un tagliato nooo sta mostra nooo 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 vedo il blu quindi è questo no non dice no sbagliato da un'idea da uno scratch mi diano soltanto delle ordini mediteri oddio parlano pure mentre fanno i sistemi di gesti ma cosa no no oddio quanto ci vuole ma non c'è ma poi poi direi ci serve pizziata che deve diventare super stanno anche lui scusate le volte fa c'è schifo il zannino eccoci qui stiamo e vado a aspettare la fusione non la vedo 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 brah sono io che non ho te la meglio che ti spiegava di più non la daria più il blasto non è messo guarda che vuole non c'erano e deve poter dirlo ma come ha briccava questa mossa poter dirlo non c'è almeno più i robot di una volta facciamo Ah, eccoli! Ok, guarda, no, sta da qua Guarda, tu non c'è qui No, ma perché no? Eh, va troppo mosso, purtroppo Come devono cavolare, un senso, no? Mi sembra si può fare a nila, non riesco per te Non posso ritravo a squadra, chissà Vediamo un po' No, basta, mamma mia No, non mi sembra No, mamma nooo No, basta Non mi sembra che potete più usare in quel certo su queste armi Adesso non è una bella cosa No Non è una bella cosa Non è una bella cosa Troppo ciò se ti ha trovato troppe cose, troppe Ma per lui quest'anno serve più a niente trasformarti in tempo, ma non è una bella cosa. Niente, i nudi petri ci danno. Infatti non dirà nulla immagino. Quindi io non sapevo cosa dire. E' inutile. Non credo che possa fondersi direttamente quello sporsale. E il problema è uno, però. Perché non possono fondersi in Gogeta? La cosa continua ad essere ancora peggiore e meno sensata. Ragazzi, non capisco, mi si piace. A meno che. No, 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 a meno che un corno. Gogeta era quello. No, Gogeta era, Gogeta. Gogeta come si può. Credo che Gogeta si può usare solo con quelle, Gogeta purtroppo ragazzi. Ok, proprio giù. E' un po' ancora un po' di tempo. Quindi niente leggevo su queste onde, non ho altro altro. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. E' un po'. E' un po' di tempo. E' un po' di tempo. no perchè si può rompere? nooo maledizione questo copo è diventato la goccena ma ancora super però diventa solo quella goccena potevo andare a scadere questi che volevo dire ma smetti non fanno la società ma perché mi dice ma non capito scusami allora posso sempre diventare goccena del gioco che siamo arrivati no io ho bisogno di voi solo una volta quindi ho detto che non avrei mai metterlo con te ok ok non c'è qui no ok ok dopo questo non so più cosa dirvi vedete dopo questo non so proprio cosa dirvi non ho appare 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 se quelli super sono diventati per il gioco io non so più cosa dirvi ma perché diventa su questo un blu giusto è proprio scherzo non credo che funzioni con altri colori non è davvero no è davvero Ma perché ti chiamo? Non ci sono un po' di più, ma non ci sono un po' di più. Non ci sono un po' di più, ma non è un po' di più. che macello che macello che macello che macello ragazzi che macello proprio no non ci siamo scusate scusate i occhi non ci siamo a tenere le gogine da guardate non lo sto vedendo proprio inoltre non c'è un po' se un po' è più перев un po' ma non c'è un po' un po' Questa scena è che va più ronca, non ho credito? Non mi sembra avrare. Non mi sembra avrare. Perchè non posso? No, io ho un teo a non capire, mi dispiace. Mi sembra un teo a non capire, non c'è niente. Non capisco, non capisco. Ma Cossetta diventa un passaggio fallito con il suo più fusionare, non ho capito. No ragazzi, non capisco. Cossetta metterò a cavolo di cane. Quanto pare. Quanto pare a Cossetta metterò a cavolo di cane. Mi sembra bella, non lo faccio. E con lo faccio un po' comune di cane. Ma inoltre va a rinforare. Mi sembra di benciare. Ah, qua inoltre va bene. Non, non... Non, non, non. Non, non, non... Non, 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 non. No, quanto male è sempre quel Vegeta, ok, è sempre quel Vegeta, ovviamente non c'è modo di avere cosa, no, è già lo su queste gun. Il re Blast esaggiava con un mi piatta totale. no no ma tutto è malato fermatelo 5 per Gogeta solo blu ma perché perché solo blu ragazzi non ha senso non ha proprio senso eppure il film il normale è tutto per Gogeta umano normale non capisco cosa faccio questo gioco non capisco cosa faccio questo gioco ecco qua mi dice la solita cosa non vero adesso io mi fanno una bomba e cosa? mi è andato ora in gioco in gioco ok non lo farò più perché non lo faccio da prima l'ho fatto anche su queste cose l'ho fatto da normale a blu ok tanto ho visto l'animozione sono patati e quindi lasciamo stare questa cosa nozze fatalmente e niente è stato da dire che Gogeta sembra rotto ma ho appena visto che il video mostra che lo può fare nozze 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 ma ormai per lui l'arena è proprio un muro invalidabile nozze 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 tuoi programma mi spiace ma proprio no 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 non ho capito insomma ci sono anche rimasti e devo mettere questo, mentre con Vegeta sembra rotto venute per 10 tempi che non ho vedevo, che è solo vedevo, qua abbiamo sbagliato vedevo quindi avevo ragione che è sempre questo anche se sul film non mi sembra che è fatto questo vediamo se facciamo fai con Jedi Scusate! ma che zia mio come ha perso poi tutto congeta sulla 6 anni 4 mi dice ok una volta funziona ma che cavolo credo non si può più rompere il scenario come l'arena quindi credo non si può più fare non posso neanche di farlo svenire a terra stasera è patetica peccato davvero peccato davvero questo gioco peccato peccato davvero peccato davvero a mezzo sui costriano ma che c'è sta qua ma come no ok ragazzi stavolta faccio di nuovo peccato sui costriano e se ti danno nulla si può fare anche da normale e com'è da continuare a non venire com'è da continuare a non venire non ho capito cosa ti danno ne ho da l'A alla Z vai qua mamma mia ah ok eccolo là gogetto eccolo là che sembrava causato qua sempre 4 e sta lì ok ho capito io non ho capito perché non ho avuto il tempo di guardarlo non ho avuto il tempo di guardarlo non ho avuto il tempo con abbastanza scorte pensando che fosse un bravi baggato non capisco perché che avete solo i capelli reddito e 20 vedo bravi vedo tutto ok ok oh gogetto dovrebbe funzionare ecco perfetto u-sio-ne io sono la tua fine ecco fatto perfetto ma peccato tutto gogetto la ventazza io non ho capito con chi ha a che fare e l'abbiamo fatto questo questo l'abbiamo visto siamo sbrigati come potremmo diciamo il problema altro quello che do in ingolizzata insomma progetto ma proistituto insomma diciamo abbastanza deputente ovviamente con gli super credo che possa diventare solo blu perché se no non avrebbe senso quindi vediamo come funzionano due fusioni in squadra più alto facciamo qui che vogliono diventare con gli super quindi mettiamo super da normale che mi sembra che si fa qualcosa direttamente si è sfumato con i cosmi però non l'ho capito tre po' ma non mi sembra che fosse la spazza non riesco perché non è una bella cosa e tu non sei tu non sei tu non sei scopo vado non è una bella cosa delle immagini e quelli quarto livello che diventano quarto livello che sono separati purtroppo e ci tocca mettere a cavolo ok ok vado a stare attenti a questi ma quello dice proprio quella deformazione consuma uno squirtacolpi o no, consuma riservabilità si si quello lo dice, un minuto però, un minuto, no, consuma riservabilità, il macero non vedo quasi niente, questo hub è già, ok, ecco già dai quelli qua, 3, 5 e 4, si si, questo non cambia totalmente nulla, c'è iniziato a 3, che brutta cosa che ricomita già, 4 vite e una blu, c'è in mezzo, 4 vite e una blu, no mettiamo la ciuma Ok Gogeta E ecco qua sempre effetto Non funziona sempre così quindi purtroppo ci toccherà a rivedere Ma si è quello qua è un aereo Si va proprio la pace in mente come niente Ti aspettavo almeno 4 per quello Super Saiyan Eccolo Eccolo Io ando non do orna Eccolo 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 totalmente più dopo totalmente zero si rompe più non c'è male and the water went on Non è così facile, due tassero, non è fantastico. Aspetta. Vagina, facciamoci questo! Non mi voglio, 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 non mi voglio. Fugio! Fugio! Ok, non la riga, perfetto, eccolo. Ragazzi, è proprio malata, non sta bene proprio. Adesso parlo, via. Guarda dei pesaggi è difficilissimo, non l'ho creduto. Guarda la zeta. Viene qua, su vai. Ma chi non viene? Si mette di roma, veramente. Non viene più, ragazzi, con i pesaggi. Vediamo che scoletti. Che ha un po' di figli, troppo. Eccolo malissimo. Perfetto. ... A dieci. Ma qui li muovono, mamma mia. Vedete, hanno solo te tricti altre. Mi dice di tornare con un bambino addirittura. Ma con qua, con un cilindro con quattro. ragazzi l'ho poteato il nylon il pesaggio quello va un po' a ridere sono quattro ma perché non vuole volare ok 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 eccoci qua, perfetto così impara bello come vedete eccoci qua, ce l'abbiamo fatta vedete che sono un po' tutti uguali però non abbiamo totalmente la conferma che possiamo farlo da normale però vabbè il problema è che questo pannello cambia davvero difficile e brutto non c'è un bel gatto questo pannello ragazzi non c'è un bel gatto, non c'è un prossimo, non c'è un po' 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 Sì, non è vero. Ho proprio ricordo per sbagliare, sì, ma... ...ma ultima di tutto ciò. Sì, non è vero. Sì, non è vero. Questo è quello che ha detto, ...gob zoom, ma non sei geno, non ricordo. Ecco, non si è compato Mario. Scanne questo, quello del scambio... ...è troppo difficile, troppo. Sì, ragazzi. Quello del scambio, il scambio... ...è troppo difficile. Grazie a tutti. Ok, aiuto. Questo scambio messaggio è troppo difficile, sai? Troppo una delle cose più fatte maestro a gioco, la verità. Quanto ruolo, ma non basta. Messaggio. Per caso la cosa è solo questa, quindi non... Mi sembra proprio che voglia... Questa non mi sembra proprio che possa diventare sbostiano in questo perché? E' una bella cosa. In realtà la sforziare non mi dice... Mi chiedo a sforziare la fusione e non dice nient'altro, bla 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 bla. La sforziare non va, non spiega altro. Quindi ho avuto a passare la sforziare la fusione e viceversa. e noi non possiamo capire come e quando sta cosa viene fatta non dice niente che non mi spiega nulla e basta altro non possiamo fare ma quanto roba perché siete a face perché non dovete capire che siete a face poi da non vedo modo che lì si possa trasformare in fusione da là alla zena e niente ma che è così forte non è quanto io sono molto forte Sono sorpreso che mi potessi riconoscere da l'ultima volta che l'avevamo fuori! All'ultima volta ciao! Non ho bisogno di farvi tutto il quadro che sono un po' di spiegazione! se lo vedo il video e posso salvare un po' direto è questo che è il video al prossimo video